I Nervini in tour continuo tra i pugliesi, Blasi tra piazze e incontri con diverse categorie, Emiliano tra slogan innovativi e faccia a faccia con i giovani nelle discoteche. Ognuno la interpreta a modo suo in Puglia la campagna elettorale del Partito Democratico che domenica prossima chiamerà al voto i suoi militanti per eleggere il segretario nazionale, quelli regionali e i delegati delle diverse assemblee. L'assessore regionale Guglielmo Minervini, che sostiene la candidatura di Dario Franceschini, continua il suo lungo giro nella regione per illustrare il programma. Parlo di temi diversi con la gente nelle piazze, dice Minervini, che ha discusso di bellezze architettoniche con il docente Alberto Magnaghi o di saperi locali con Giovanna Melandri. Ad effetto invece la campagna elettorale di Michele Emiliano, pronto ad andare in piazza nel prossimo fine settimana con artisti pugliesi, ma pronto anche a piombare nelle piste da ballo per incontrare i giovani. Bisognerà andare nei posti dove di solito i partiti non vanno, perché qualcuno ha in mente di ricostituire i partiti del Novecento, ma gli italiani hanno l'orrore dei partiti fatti all'antica, in quei posti dove se sbagliavi a dire una parola tutti ti guardavano come se tu fossi un marziano. La proposta del segretario uscente fa saltare dalla sedia Sergio Blasi, l'altro concorrente alla segreteria pugliese, esponente della mozione nazionale di Pierluigi Bersani. Io continuerò a lavorare in questi giorni, incontrando più gente possibile, non facendo feste, perché credo che non sia il caso in un tempo come questo, come dire, di dare segnali di questo tipo. Ecco, riconsegniamoci un'idea sobria della politica, perché c'è gente che passa le sue giornate contando le ore di cassa integrazione, oppure girando per cercare di sfuggire dalla disperazione di un posto che si è perso o di un posto di lavoro che non si è ancora trovato. In vista del voto di domenica, ovviamente, anche in Puglia scenderanno i big del Partito Democratico, ognuno per affiancare il proprio adepto in terra pugliese. Venerdì a Bari ci sarà Pierluigi Bersani, in questi giorni arriverà anche Massimo D'Alema, mentre domani per spingere Guglielmo Minervini atterrerà in Puglia Dario Franceschini, che terrà l'ultimo dei discorsi fatti agli italiani in questa campagna elettorale. Michele Emiliano invece avanza solitario, senza alcun esponente nazionale al suo fianco. Il sindaco di Bari ha deciso autonomamente di gareggiare al di fuori delle mozioni di partito. Domenica forse sapremo come finirà. Se il risultato delle primarie non dovesse ancora eleggere un segretario a causa del mancato raggiungimento del quorum, allora bisognerà attendere la decisione dell'Assemblea dei Delegati, con un'altra campagna elettorale tra slogan, musica, tutto volume e chilometri in auto dalla Capitanata al Salento.